Oddio, mi manca poco l'esame, mi manca una settimana, come farò, come farò io? Io sverrò, io sverrò, andrò tutto male, andrò tutto male, aah! Devo studiare, 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 aah! Ecco, se anche voi siete in questa situazione, oggi sono qua per darvi alcuni consigli e vi racconterò nello specifico la mia esperienza riguardante l'esame di orse medie. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video! Io sono Giada e questo è il mio canale e se non siete ancora iscritti, mi raccomando, mettete un like e iscrivetevi! Ok, oggi sono qua per un nuovissimo video a tema Back to School, i vostri preferiti, ovviamente. Sono qua oggi per parlarvi del esame di terza media. Io quest'anno ho fatto la prima superiore e quindi l'esame di terza media l'ho fatto l'anno scorso. Viderò il video in due parti, allora è una parte in cui vi darò dei consigli e una parte in cui vi spiego un attimo come è nato l'anno scorso, eccetera. E quindi iniziamo subito! Io praticamente, avendolo fatto l'anno scorso in piena covid, in piena quarantena, eravamo a casa. Io l'ho fatto in modo ovviamente diverso, non abbiamo fatto tutti gli iscritti, solamente l'orale e l'abbiamo fatto in videochiamata. Però, da quel che ho capito, anche quest'anno non si faranno gli iscritti, ma solamente l'orale e poi qualche domanda sul programma. Quindi, diciamo che sono stata avvantaggiata anche perché non sono dovuta andare lì in presenza a parlare con i prof, ma qua da casa. Quindi, cioè, sia a casa, sia tutto già più tranquillo, è il tuo posto, comfort zone, diciamo. E per quanto riguarda la tesina, quindi l'unica cosa che mi ha fatto è stata la tesina. Noi dovevamo scegliere, cioè i nostri professori, di solito l'argomento si sceglie libero, però i nostri professori ci avevano detto di scegliere una persona che aveva vinto un premio Nobel. E quindi io ho scelto, qua ho la mia tesina, guardatela, così, questa copertina, poi dentro... E io ho dovuto scegliere un premio Nobel e ho fatto Jane Addams, che era una femminista, e quindi alla fine ho fatto tutto collegato al femminismo. Poi per i collegamenti, io non avevo idea, tipo zero, io sapevo un quel collegamento, non sapevo cosa fare, quindi vi do due consigli. Allora, o ti cercate su internet, ci sono già un sacco di tesine preimpostate, con tutti i collegamenti preimpostati, oppure vi fate aiutare i professori. E ho fatto così perché alla fine praticamente la metà dei collegamenti me li ha fatti i miei prof. E poi, tipo, verso aprile, credo, ho iniziato a scrivere la tesina e era da consegnare entro il 6 giugno, se non mi sbaglio, quindi qualche giorno prima della scuola. E poi, successivamente, dopo che ho finito la tesina, tutto con calma, ho fatto il powerpoint, il momento dell'orare, ok. Io sono stata la prima perché eravamo andata in ordine alfabetico. I primi giorni prima ero abbastanza sempre tranquilla, dicevo, ma no, andrà bene. E poi, tipo al mattino, però ovviamente ho un po' di ansia, l'ho avuto anch'io, cioè c'erano avuti tutti. E quindi poi mi sono collegata e ho iniziato a parlare, ma praticamente io sono stata tipo scioccata, perché io ho preparato tutto questo, dovevo parlare della mia tesina e io ero pronta a raccontare tutti gli argomenti. Mi hanno chiesto tre argomenti, tre argomenti, palesemente. E basta, poi mi hanno fatto forse una domanda, ma su quello di cui io stavo parlando nella tesina. E poi finita lì, in quarto d'ora, ciao, ciao. E sotto così, tipo, io ero abbastanza scioccata e ho detto, ma è facilissimo! Wow! Ma allora perché mi sono preoccupata così tanto? È facilissimo! E alla fine poi sono uscita con noi. È il momento dei consigli. Magari se trovate anche qualche domanda, se i commenti sono abilitati, me la scrivete nei commenti. Allora, mi sono preparata qua. Allora, le prime domande che tutti si chiedono... È difficile? È difficile? È difficile? È difficile? Ma sarà difficile? Sarà difficile? Ce la farò? Non so in quanto per rispondere. È facilissimo! Ve l'hanno già detto tutti, ma è vero? Alla fine è facile perché tu, dice la tua, allora ti lascia parlare, però ti lascia parlare, poi non è che io devo mettere in difficoltà come si vede nei film e poi dicono Oh no! Questo mi odia! Mi vorrà fare domanda di una cosa che avremmo fatte in prima mese e io non saprò niente. No, queste erano le robe sul... Cioè, a noi mi abbiamo fatto le domande sulla tesina, comunque robe di quest'anno, non di dieci anni fa, che chi se ne ricorda. E quindi la facile ce la farete sicuramente perché non credo che bocciano. Cioè, bocciano chi non parla. Se anche uno dice due cose, mica ti bocciano. Prossima domanda. Sicuramente tutti sarete ansiosi, però io ho sempre pensato così. Cioè, poi c'è chi è più ansioso, un po' meno. Io ho sempre pensato così. Cioè, alla fine, se voi avete studiato e vi siete preparati nei mesi precedenti, con le verifiche, eccetera, 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 ma anche mentre studi, fare la tesina, anche leggere, poi un po' rimane interessata a qualcosa, neanche fa puff, alla fine, se voi avete studiato, non c'è niente di cui preoccuparsi perché le cose, se le sapete, siete a posto. A meno che fanno, pfff, esboniscono così all'improvviso, che potrebbe succedere, però speriamo di no. E poi vi consiglio un'altra roba che di non studiare memoria, cioè non studiare mai memoria per nessuna cosa perché secondo me, cioè, vi leggete la roba, però poi potete cambiare le parole, eccetera, anche quando parlate così, se vi fanno delle domande, magari vi fanno una domanda che è quella come ho detto voi, ma tipo ho rigirato al contrario, poi magari andate in caos, no, non bisogna andare in caos, bisogna essere bravi e rispondere. Cioè la parte più lunga alla fine è fare la tesina e poi comunque studiare, non è neanche poi così tanto per quanto riguarda me, poi c'è anche il programma, sì, però comunque secondo me la parte più lunga è la tesina. E comunque questo era il video, spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettete like, iscrivetevi al canale e non verretevi tutti nei prossimi video e un bacio nel mio abbraccio, ciao! Poi non c'è niente da preoccupare, se andrà bene e ce la farete. Un bacio!